Marina! papà, abuela, hermanas, adiós Debo ir al fiordo mañana por la mañana antes de que amanezca Adiós Fritz Marina, yo quiero ir contigo No, será mejor que nos despidamos ahora Adiós Fritz Marina! 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 Sì! 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 è questo è un amico amico non è un amico è no a te non 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 ma 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 c'è un po' davvero vissi un po' ascolto a vissi vissi a si il l' 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 Sì, non so, mi sono stati qui, non so, Mario? Ah, sì. Oh, no! Rijie, non c'è il suo corpo. Sì, che cosa che gli uomini stanno facendo? Non c'è il nostro corpo? 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 Non c'è Mario? Non c'è il nostro corpo? Ok. Papà Sì, la sua chiamata. Hey, C85. Oh, hai. E? Oh, sai. Lui. Sì, la sua chiamata...